Io ho parlato di Maria del Santissimo Rosario. Io ho parlato di Francesco della Madre, specchio della pazienza. Io ho parlato di Maria del Dio. Io ho parlato di Regina della Bancana della Madre, di Regina del Cielo. Io ho parlato di Maria 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 del Cielo. da parte ai fratelli, nelle Tue mani, Padre, Nostro, Salve e Martino, Comissario e Pontificio, con l'intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita, conformemente alla disposizione della Chiesa, rinnovo voto per l'Aman, il libero e obbediente, povero e caso, secondo le costituzioni dell'Istituto dei Carri Francescani dell'Evacolata e secondo la regola di San Francesco, confermata da Papa Onorio. Inoltre il mio nuovo voto è un anno di totale disponibilità all'andare delle missioni, secondo la mia consacrazione all'Avveragere Immacolata. Erdando mi affido con tutto il cuore a questa fraternità, nell'attuale mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'indicata accessione dello Spirito Santo, in intercessione della Viata Maria e la Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, di San Massimiliano Maria Corbe, e di tutti gli angeli e i santi, e il vostro Padre di San Massimiliano Maria Corbe, e io, al nome della Chiesa e della nostra fraternità, dicendo di vostra vita oggi, che da parte di Dio impotente, se osserveremo queste forze, vi prometto per presto